Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio, oggi interamente dedicato a qualcosa di importante come la migliore carta cripto del 2023. Se sei per la prima volta all'interno di questo canale, lascia che io mi presenti, mi chiamo Ciro Muto, mi occupo di finanza personale, management e crescita personale. Sono ormai anni che divulgo informazioni online per arricchire la tua cultura finanziaria e per aiutarti nelle situazioni più disparate. Oggi ho deciso di realizzare questo video per aiutarti a fare una selezione tra quelle che sono le migliori carte per la gestione del tuo portafoglio in cripto. Ne avrai sicuramente sentito parlare anche da altri formatori online, ci sono diverse tipologie di carte ma non tutte offrono la stessa tipologia di vantaggio, anzi i numeri ci dicono che la maggior parte delle persone non utilizza neanche una carta, utilizzano semplicemente un wallet, tante volte anche molto costoso, che ha dei costi per le transazioni ed è privo di una carta per prelevare e per pagare. In questo video ti darò tante informazioni che ti aiuteranno proprio a scegliere quello che è uno strumento che ti aiuta non solo a gestire quelle che sono le tue criptomonete ma anche a pagare nei negozi, eventualmente a prelevare del denaro, ovviamente in valuta fiat, che può essere scalato direttamente dal tuo conto cripto. Ormai le criptomonete non è più come qualche anno fa, sono regolamentate ed hanno anche degli appositi conti con delle ecco carte che ti consentono sia di prelevare che di pagare nello specifico, nella descrizione, diciamo nella descrizione di questo video troverai un link che ti consentirà di aprire il conto gratuito, di trasferire anche quelle che sono le tue attuali criptomonete, se le hai già inserite all'interno di un altro wallet potrai fare il trasferimento in maniera del tutto gratuita, ti verrà spedita questa carta che ti consente di prelevare il denaro in valuta fiat e ti offre anche l'opportunità di pagare all'interno dei negozi in valuta fiat utilizzando direttamente quella che è la criptomoneta collegata al conto, sembra qualcosa di paranormale anche se siamo nel 2023, però oggi è ampiamente consentito l'utilizzo di quella che è la criptomoneta pagando direttamente con una carta che è collegata a questo conto, tanti sono i conti disponibili, pochi sono quelli che hanno poche commissioni e che non hanno costi di apertura, nello specifico come ti dicevo nella descrizione di questo video troverai un link che ti consentirà da smartphone di aprire questo wallet che possiede anche una carta che è collegata proprio alla tua criptomoneta, è tutto totalmente gratuito, dovrai semplicemente accettare la privacy del sito una volta cliccato sul link, dovrai caricare i tuoi documenti e dovrai aprire quello che è il tuo wallet, poi potrai utilizzare la carta sia in formato digitale, ovvero la potrai inserire nel tuo Apple Pay o all'interno di Google Pay e potrai utilizzare quella che è la tua criptomoneta per pagare di fida, di fida totalmente da quei prodotti che non sono regolamentati dalla legge, che utilizzano delle carte estere, siamo in Italia, bisogna utilizzare dei prodotti che sono accettati dal regolamento italiano e che sono regolamentati dalla legge, quindi quello che trovi nella descrizione è un prodotto gratuito, una carta che ti consente proprio di pagare e di mantenere il denaro all'interno del wallet, è la migliore carta del 2023, è gratuita, ha un sacco di vantaggi e può essere anche utilizzata per degli acquisti online, quindi abbiamo tutte le classiche opportunità di una carta prepagata, soltanto che il denaro collegato a quest'ultima è in criptomoneta e non è in valuta fiat. Io ti ricordo che all'interno di questo canale trovi tanti video che offrono dei consigli sia per conti correnti italiani che per carte prepagate, carte di credito e molto altro. Ovviamente se sei all'interno del mio gruppo telegramma, verrai avvisato con una notifica ogni qualvolta ci sarà un prodotto interessante da aprire. Spesso sono tante anche le promozioni che inserisco che hanno dei link che ti portano su Amazon perché tanti prodotti possono essere anche ordinati da lì. Ci sono anche dei prodotti che ti offrono l'opportunità di ottenere degli sconti per acquisti online, ne parlavo anche nel mio canale TikTok in questo periodo ho testato un nuovo prodotto che è veramente eccezionale e ti dà l'opportunità di accedere ad un 35% di sconto su siti come Booking.com, su Adidas, Nike e tanto altro. Ovviamente non essendo l'argomento principale di questo video, oggi parliamo della migliore carta cripto del 2023. Non posso dilungarmi ancora perché altrimenti potrebbe non essere in tema con l'argomento di oggi, però se vai all'interno del mio canale TikTok troverai degli short che parlano proprio di questo conto eccezionale, ci sono anche i riferimenti per scoprire come aprirlo veramente in pochissimo tempo. Dunque, se l'argomento denaro ti appassiona, se sei uno di quelli che costantemente cercano di risparmiare sugli acquisti o di avere sempre il miglior prodotto e la migliore soluzione sul mercato in tema finanziario, ecco se il mondo degli investimenti è qualcosa che ti interessa sicuramente questo canale potrebbe tornarti davvero utile. Quindi ti consiglio di schiacciare like su questo video, se non l'hai ancora fatto, di condividere questo video all'interno dei tuoi canali social e magari di schiacciare segui per non perderti il prossimo video. Sono aggiornati sempre con costanza, ho anche un canale podcast totalmente gratuito che è molto comodo per chi vuole imparare mentre magari sta facendo cose totalmente diverse, perché i podcast sono in generale esplosi in questo periodo post pandemia, dopo la pandemia, prima e dopo, e utilizzano quello che è un formato semplice come l'audio per darti ecco l'opportunità di imparare mentre sei alla guida della tua automobili o mentre semplicemente stai facendo qualcosa di diverso. Con questo è veramente tutto, io ti saluto e ti aspetto in un prossimo video, sempre qui su YouTube. Ciao!